Grazie a tutti Sì, vi avverto che questa si chiama sedizione In ogni modo fè quel che voleva e che mi non ho visto niente Non mi scusi, sergente, se la mia ignoranza non è pari alla tua Ma qui la seduzione non ci entra proprio un bel niente È un combattente che privatamente di sua iniziativa fa presente al signor generale Che con quel patume qui non è vita Vabbè, 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 vabbè 10, 11 e 12, tocca a te Tocca a te E allora? Cosa devo dire? Io ve lo dico, se parla questo ci fucilano a tutti Giusto, tocca a chi perché... Riposo, riposo È una visita amichevole, niente formalità Riposo E faccia distribuire il rancho Sì, signor generale Penso che i nostri giovanotti abbiano fame Bellissimo Tu, assaggia il tuo rancho e dimmi che te ne pare Signor sì Ottimo abbondante, signor generale Invece è uno schifo Niente grassi e poca pasta Questo non è cibo per uomini che combattono La sciacquatura di marmitte, si provvede Ciao, ruffiano Sì, ti parla L'ho fatta apposta per vedere che diceva Magari ci provava a diccare apposta Belleggio, guarda Quanti grandi attori in un film sono Mamma mia, mamma mia Grandissimo Alberto Sordi La grande guerra Ciao Matteo Ciao Matteo Ciao a tutti Benvenuti alla finalissima di X-Factor Vabbè, vabbè, mi sono lasciato Non è una trasmissione Un po' meno Un po' meno È stato il numero 22 Cioè non so se 22 22 22 Cioè È un numero Un numero pari Mentre cos'è che abbiamo visto, Fabio? Cos'è che ci siamo fatti per l'ennesimo Abbiamo visto la grande guerra La grande guerra Ci siamo fatti l'ennesimo regalo L'ennesimo regalo Un film dell'ennesimo Grande film del maestro Mario Moricelli, Fabio È un'ennesimo film candidato all'Oscar Candidato all'Oscar Veramente Nel frattempo qua Sì, sì Occhio che qui Infatti ho visto che c'è stata una scossa Eccolo Non si vede Ma lui mi fa compagnia Tra l'altro A canne E ricevisse la palma d'oro In ex cuoco Con Va che c'è un altro Cosa c'è? A canne A canne Esatto In ex cuoco Comunque Comunque Fabio andiamo In ex cuoco? In ex cuoco Allora Fabio Allora Ricordiamo Perché Mattei usi Usi le canzoni di Caterina Per farlo Sarete musicale Guarda che c'è un motivo Servo E che lo racconti Facciamo una cosa Allora Una promessa Una promessa Qui lo dico e qui annego Come disse quel povero sub Allora Lunedì Visto così Chiudiamo Lunedì Grande trasmissione Tu racconti del cane E io dico Perché usano Le musica dei bambini Va bene Perfetto Promessa Con una B Vedi Lunedì Vabbè Sì 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 Non spiegare le B Sino dopo Cominciare di questo Spregoni Lunedì Giorno di Pasquetta Dalle ore Solo lunedì Sarà quest'anno Soprattutto E No È sempre lunedì Ma va bene Dalle ore Dalle 17 A fine Esaurimento Cazzate Esaurimento battute Esaurimento ospiti Esaurimento ospiti Quindi alle 17 e 5 No Non ho detto Esaurimento battute belle A proposto di pupillare Pupillare Fabio Cos'è successo? Arrivano tantissimi messaggi Tantissimi Eh no ma è pieno Pieno messaggi Allora Messaggi Farei ascoltare subito Questo grande messaggio Vai Vai lancia qualche messaggio Allora un di certo Pasquale Pasquale vai Grazie a te Pasquale Grazie a te Pasquale Grazie a te Pasquale Quis matematico E stavolta si parla di matematica Allora ricordiamo che Se qualcuno la considera Non è niente di originale Perché diciamo Io domando Se A sta B B sta C Mustafa Mi è sempre piaciuta Mi è sempre piaciuta Dopo questo Fabio Messaggio 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 No no aspetta Aspetta No questo dovevo mandare la martedì Questo dovevo mandare la martedì Scusa Tanto di Pasquette Diciamo così Lanciamo la nostra rubrica Sì sì Allora noi abbiamo iniziato Con La Grande Guerra Questo veramente grandissimo film Con Sordi e Molicelli Allora io La rubrica di oggi è Scriveteci quella volta che Raccontateci Di quella volta che Avete girato il film La Grande Guerra Diretti da Mario Molicelli E eravate il protagonista Assieme a Gasman Vai raccontateci La vostra esperienza E via E faccia andare Praticamente L'unico che può scrivere Sta cosa è il Sordi Lui sta la protagonista Ah quindi nessun altro può Eh no Va bene Nel senso Sono quasi tutti morti Matte Ma poi Sinceramente I grandi attori Non seguono Non è una tradizione originale Non lo so Nel frattempo Abbiamo il luogo Di Via Ferravilla Ricordiamo che Si accettano regali Di Pasqua A domicilio Assolutamente Fabio C'è una comunicazione Importante Una comunicazione importante Se la vado a trovare È stato No Non è scritta qui Comunque Forse allora la leggo domani La leggo domani Nel frattempo Io lancio qualcosa di serio Va benissimo Lancio La rubrica Ai nostri ascoltatori Di fare Un video Si Dove loro dicono Noi seguiamo Non è una trasmissione originale Manda Manda Il visciore Grazie a te Grazie a te Grazie a Deborah Con il suo video Grazie a Deborah Sms Sms C'è una persona Che chiede Cioè No esatto Mandateci video Ne stanno arrivando Veramente tanti Sms A me arriva gli sms Una persona Che chiede Saluta mamma Oggi Oggi hanno distribuito Fabio è un messaggio serio Oggi hanno distribuito le mascherine I mantenti Quando? No Ma tu devi censurarli Sti messaggi Va bene Allora vedo di censurarli Fabio Io andrei con la pizzeria Ma sì Allora Io avrei anche il menù di Pasqua Avrei anche il menù di Pasqua Vediamo se abbiamo tempo Se no lo mandiamo la settimana prossima Il menù di Pasqua Non è un problema questo Allora Pasqua è domani Ma se non è quello il problema Allora Menù di Pasqua Pizzeria il porchetto Tagliatelle In camicia di forza Soltanto per Soltanto per domani Assolutamente Sì sì Perché ci sono questi Fantastici Allora Allora Fabio Tutto quanto molto bene Ci scrive una cartomante La nostra pizzeria Ci scrive una cartomante Ci dice Ragazzi se avete voglia Io posso intervenire Conosco il futuro Il gerundio Io non so se È il caso di Chiawana Lei è veramente Quindi è l'unica cartomante Grammaticale Esatto esatto È veramente È veramente in gamba Io Fabio Oggi Svegliamo un segreto Svegliamo Noi abbiamo anche la nostra rubrica Sempre riferita ai nostri ascoltatori Col cavolo Ah sì Col cavolo Che vi racconto una barzelletta Quindi Rilanciamola così Magari qualcuno Che cosa devono fare Dillo tu che devono farsi ascoltatori Devono No leggevo mio fratello Che dice più che una scaletta È bisogno di un ponteggio Mi suggerisce battute in continuazione Roberto dice Buonasera Comunque È genetica È geneticamente geniale Geniale Fabio Speriamo che non ci sia un geniocidio È bella questa È bellissima Allora esatto Se non volete raccontare una barzelletta Ci chiamate Al numero Il numero che c'è qui Ci manda 3421791236 Dicendoci col cavolo Che voglio raccontare Una barzelletta Assolutamente Fabio Io avrei Altri messaggi ti interessano Non ti interessano Non ci interessa Andiamo con Gabriele Menini Daniele Gravissimo Gabriele Menini Io Fabio Tanti ascoltatori Io dico Se avete delle domande da porci Se avete dei No 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 Fabio In Emilia Con i maiali Ci sanno fare Fidatini Le domande da porci E un altro No Da porci No 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 Porci Porci No No È il verbo porgere Lascia perdere i verbi No Lascia perdere i verbi Allora quindi I nostri ascoltatori Possono scrivere Commentando in diretta Il video La nostra diretta E noi possiamo rispondere A qualsiasi domanda Guarda Voglio esagerare Tutte le domande Ma chi dice noi Domande Sull'attualità Sul futuro Sul passato Sul gerundio A proposito del passato Fabio A proposito del passato Mi chiede uno ascoltatore Conviene metterci Un filo d'olio Prima o dopo Nel passato Ecco Abbiamoci una persona seria Persona seria Quindi Andiamo con la musica 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 Direi che è più che sufficiente La musica Grazie Benvenuto Ragazzi Ma stasera abbiamo Andrea Lupo No non far battute Dai Ma la cosa Tenti al lupo Non è male Tenti al lupo Non è male Bisogna starsi attenti Andrea Lupo Grazie davvero Carissimo Andrea Lupo Io sono così eh Tu Io No Beato te Beato te Beato te Aspetta Roberto Mi prepari qualcosa? Sentilo il maschio dominante Per piacere Giustamente Questa qui è orario D'aperitivo Quindi fai bene Andrea È giusto così È giusto così Esatto Buon aperitivo Buona libreria Buona libreria Andrea Hai visto la piccola libreria In camera da letto Fatta apposta Per questo periodo Di solito C'è dell'altra roba Invece per il collegamento Ho messo i libri Sono finti Sono di scena Sono di scena Assolutamente Fabio sai che Tu Fabio sei benissimo Io dietro Ho il teatro Io sono in teatro Ho il teatro Ho un teatro che si porta a casa Chiedo scusa Adesso è chiuso È ridotto così Ragazzi cosa faccio il mio spettacolo Tu Fabio sei benissimo Che io appresto gli spettacoli Quelli con tante persone in scena Gli spettacoli spettacolari A livello proprio Spettacolari Quindi 20-25 attori Io ho visto Andrea Lupo Era un attore Ma io ho visto Quanti personaggi ho visto? 20 spettacoli Quando si è venuto a vedere A Bologna Ad avere uno spettacolo Spettacolare Si può dire Lui riusciva a parlare Anche quando prendeva aria Ho sbaglio? No veramente Un'energia Con cosa parlavo? No 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 Lasciamo un po' di mistero Bisogna lasciare 25 attori A volte servono Per fare un attore bravo E a volte Quando c'è un attore bravo Fa per 25 Ragazzi Ma Andrea Stendino e escono Per andare a lupo Forza Si Come dice Esatto Sembra un po' Il grande pennello La grande parete Il grande pennello Ma Andrea Questa attività Che stai facendo Su web In questo momento Siete tre fratelli O sei tu Che dalle tue parti Hai una giornata Di 28 ore Allora io ho un problema Adesso mi avvicino Perché devo confidarmi Una cosa molto seria Spegniamo i microfoni Avviciniamoci tutti Io ho un grosso problema Fin da piccolo Ho un grosso problema E star senza far niente Vado giù di testa Ma pesante Cioè diventa grave Diventa grave Ma ne lo so La cosa Indecchiando Vedi il pelo bianco Ecco Indecchiando Non è che migliora Peggiora Peggiora Bene Per cui se non Se non sono impegnato In 82 progetti Nello stesso momento Va a finire Che mi sfogo Su mia moglie Non è caro No 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 Assolutamente Assolutamente Ovviamente sto scherzando No Anche che bisogna dirlo Sa mai Mi ha già stato molto attenti Bisogna dirlo Nel senso che poi Mi deprimo Allora poi mia moglie Giustamente Soffre Dalla mia depressione C'è l'empatia di coppia Che prendi su l'avvento No 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 Assolutamente Non si sa Anche tu sei una di quelle persone Che Quando Incontri colleghi Che ti chiederò Com'è andato Lo spettacolo ieri Rispondi sempre bene Cioè Non Ci sono Sempre bene Non va mai storto Perché Matteo Si fa così No dipende Dipende Chi è l'amico È ottimismo Dipende chi è l'amico E dipende anche Dall'esperienza Che hai avuto quella sera Perché il mio Com'è andato Lo spettacolo ieri sera È andata benissimo Può voler dire Che io ho avuto Delle buone sensazioni Ho scoperto delle nuove cose Del personaggio Perché il nostro lavoro È bello per quello Ogni replica Capisci qualcosa in più Riapprofondisci le cose Anche lo spettacolo Che tu hai visto a Bologna Il circo capovolto Lo faccio da sei anni Se non sbaglio Eppure ogni volta Che lo faccio È un'emozione nuova Scopro una sfumatura diversa Perché La ricerca è continua Altrimenti ci ammazziamo Esatto Non potrebbe essere Altrimenti Alla quinta replica Ti uccidi Allora può essere Che io rispondo A mio collega Guarda è andata da Dio E in sala avevo tre persone Magari Ma per me è andata da Dio Perché quella sera Non lo so Mi sono emozionato Più del solito Ero più concentrato Non so Oppure può dire Può voler dire anche Che è andata di merda C'erano tre persone in sala Ma quello che me l'ha chiesto Allora è andata da Dio Vieno così Guarda Alla fine il camerino Sold out Sold out Assolutamente Bisogna sopravvivere Funziona così per tutti Bisogna sopravvivere Però Tu lavori nel mondo Dello spettacolo Una vita anche Abbastanza semplice Sopravvivere Ok Guarda Io ho Stillato questa ricetta Ed è vera È una banalità assoluta Cioè tutti i lavori Sono davvero tutti uguali Sono davvero Io abito in una piccolissima frazione Di un comune In provincia di Bologna Per cui gli amici Sai I conoscenti Gli amici Sono anche i genitori Dei compagni di classe Dei miei figli Capita Si fa un po' di comunella Tra i genitori Certo Loro fanno lavori Altri lavori Diversi dal mio Chi ha un'azienda di pulizie Chi ha Farmuratore Chi fa Che ne so Il rappresentante Tutti i lavori Bel mondo E alla fine Quando ci troviamo la sera Dopo il quarto Quinto Sesto bicchiere di vino A cena Mangiare insieme Alla fine Le soddisfazioni Le insoddisfazioni I problemi Le frustrazioni Sono bene o male Tutti quei Sono identiche Sono identiche Sono identiche Ce la tiriamo meno Se ce la tiriamo meno I lavori sono tutti uguali Vero Sono tutti importanti Ma questo sì E sarebbe importante Che in questo paese Adesso faccio il pippone Adesso sarebbe importante Che in questo paese Se hai mal di testa E ti serve una pastiglia Tu andassi in farmacia E non dall'idraulico Sarebbe importante Che in questo paese Se ti scopri un tubo in casa Non vai in farmacia Vai dall'idraulico Sarebbe importante Che se c'è da un citare Tu chiamassi un attore E non dall'idraulico E non dall'idraulico Pensa alla puttanata Che ho detto Io la sottoscrivo Scusa ma tu Tu non ti sei mai vergognato Di dire una puttanata Talmente grossa E la gente ti ascolta Perché sei una persona Comunque incredibile Con un certo carisma Hai detto No questa non la dovevo dire Ho esagerato Tipo all'amico che Vederlo andare a casa Con la coda tra le gambe E dire no Forse ho esagerato Ho esagerato No dai Non sono così No L'amico che è Soltanto l'amico Che è imbattuta Bene 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 Perché comunque Quando Quando sale sul palcoscenico La gente ti ascolta Si assume un certo potere Adesso vedi Io ho un microfono Volutamente staccato Finto Spento Però Se tu hai Perché naturalmente È sufficiente L'auricolare Però Da potere Il microfono Il palcoscenico La luce Ma quindi Da anche tanta 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 responsabilità Questo è un discorso Molto importante Allora Separiamo però Sempre i due ambiti L'ambito vita E l'ambito Lavoro Perché io Ci tengo molto A tenerli separati Anche se Dentro di me Il motore Della ricerca Di attore Di drammaturgo Di regista Che sono Non smette mai Purtroppo Ecco il nostro lavoro A differenza di altri lavori Forse ha questa cosa Che peggiora un po' La questione Cioè Sei pur sempre L'imprenditore di te stesso Qualsiasi mestiere Tu facci nel mondo Dello spettacolo La tua ricerca personale Di lettura della realtà Di trasformazione Della lettura della realtà In te Di E continuo Non riesci a spegnere Quel bottone lì Dopo Soprattutto dopo un po' di anni Che lo fai Per cui Ti accorgi Che mentre sei a cena Con gli amici Li stai osservando Quindi Guarda lui Visto mentre sei arrabbiato A Mosso Bella Che è una roba Orribile Perché Non vivi più in diretta Dopo con gli anni Questa cosa un po' passa Ti abitui Quella parte del cervello Che continua a registrare E gli dici Senti stasera Non mi rompere Però lui continua a registrare Il piccolo mostro verde Che sta dietro E non mi ricordo più Cosa stavo dicendo La differenza Di te ne ha separato La responsabilità Il te ne ha separato Lavoro e vita privata Bravissimo Della responsabilità Di quando dici delle cose Allora Nella vita privata Vi devo dire questa cosa Tutto il mio carisma La mia capacità La mia voce Non è vero Vale niente Alle cene Eppure la voce Ce l'ho Non mi manca Se voglio dire una puttanata Devo intervenire Ottanta volte Non mi caga nessuno Io scusate Volevo dire Sì vabbè Perché per me sono abituati E' arrivato l'attore Vabbè ascoltiamo Ascoltiamo Mentre invece in scena Torniamo seri Due secondi In scena invece In questa cosa Credo tantissimo Ed è per questo anche Oltre che per una mia Fobia del nulla fare Ed è anche per questo Che appena è arrivata Questa cosa Che ci ha chiuso i teatri Ho fatto di tutto Per coinvolgere Tutti i nostri dipendenti I nostri collaboratori Della nostra impresa culturale Per cercare di dare continuità Alla nostra proposta culturale Alla nostra fabbrica di bellezza Perché So che ci sono molti colleghi Che invece giustamente E rispetto moltissimo Anche la loro idea Sono tentato anche Di abbracciarla In qualche momento Ma non ce la faccio È un problema mio Rispetto moltissimo Quei colleghi Che hanno fatto un passo indietro E hanno detto No io non faccio niente Gratis E danno ragionissimo Perché il nostro è un lavoro Che deve sostenere La nostra attività Non faccio niente In questo momento Perché non è questo Il mio mezzo Il mio mezzo è un altro Faccio teatro Faccio cinema Faccio cose Queste dirette Non sono quello che faccio E è il momento In cui mi devo Richiudere a riflettere Lo rispetto tantissimo C'è stata anche La lettera aperta Di Nick Cave Va benissimo Io però Non sono fatto così Allora io rispetto loro Spero che loro rispettino La mia scelta La mia scelta Invece è In questo momento Bisogna iperprodurre Io sono Hai visto la nostra programmazione Facciamo ogni giorno Un appuntamento Alle quattro e mezza Per i bambini Un appuntamento Alle diciannove Per gli adulti Con dei contenuti Spero interessanti Non sono interessanti È lo stesso Perché crediamo Fortissimamente Poi il pippone finisce Perché mi rendo conto Che rompo Ma crediamo fortissimamente Che la gente Non vada disabituata A nutrirsi di bellezza Bellezza con la B maiuscola E noi abbiamo Quella responsabilità In quanto produttori Di bellezza Chi più chi meno Chi fa invece Delle schifezze come me O chi fa delle cose Meravigliose come voi Non lo so Non è questione Ma è comunque Bellezza quella che produciamo Perché è comunque Un gesto altruistico Artistico Va comunque bene Poi giudichiamo Chi fa meglio Chi fa peggio Chi se ne frega Ma questa cosa Che parte da dentro di me E deve arrivare a te Di cui tu ti devi Nutrire È comunque bellezza Se il gesto Diciamo È l'istinto È quello artistico Io non posso smettere Di farlo Perché è il mio modo Di stare al mondo Non è solo il mio lavoro È il mio modo Di stare al mondo Cercare di produrre Bellezza per le altre E non posso pensare Che la gente Che è affezionata a me Quei tre, quattro Che mi seguono La gente che si aspetta Da me qualcosa Deba stare senza La mia produzione La mia sudorazione Di bellezza Perché io Prendi un momento Di riflessione Perché non ho Le quinte E il teatro E il buio cosmico Del teatro Io non sono fatto così Ho cercato di riadattare La mia proposta La mia cosa Allo strumento unico Che c'è adesso Che è questo Adesso in questo momento Certo Uno si adatta A quello che c'è Facciamo delle dirette E mi rendo conto Che abbiamo fatto Delle schifezze Anche totali Abbiamo Ci siamo inventati Una web serie Ci siamo inventati Una web serie Perché siamo pazzi Completi Però Non volevo Interrompere Questo collegamento Che c'è fra Il donatore Di bellezza Perché non facciamoci Neanche creatori Lasciamo stare Il donatore di bellezza È il consumatore Di bellezza Perché se no C'è un rischio bruttissimo Che la gente Si disabitui A nutrirsi Di bellezza Ed è responsabilità nostra Fargli capire Che devono continuare A nutrirsi Anche se sono a casa E non sanno Da che parte prenderla Perché molto spesso Lo spettatore È anche un po' Sperduto Da questo punto Mi piace tantissimo Il tuo modo Di sottolineare Più volte La responsabilità La responsabilità Ed è vero Io Ti ho detto Che Fabio Ti avrebbe detto Guarda che dobbiamo Chiudere perché tardi Ma invece era bellissimo Ascoltarti No Io Sono rimasto Incantato Dalle parole Poi questa voce Che incanta Devo essere sincero Io ce l'ho nelle cuffie Quindi Guarda Il nuovo servizio Che abbiamo attivato Andrei Spero che tu Che tu possa andare avanti Per tantissime Proporre tantissime Attività Via Via canale E allo stesso tempo Che tu possa Riaprire il teatro Al più presto Un po' Ti salutiamo Augurio per tutti Io sposto il microfono Assolutamente Va bene Grazie Andrea Grazie per il tuo contributo Grazie mille Grazie mille Ma fermati Era quello che volevamo Ciao a presto Buon lavoro Ti abbiamo invitato A posto Ciao 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 ragazzi Teniamo duro Tal deghe come si dice Forza Io intanto vado a fare un attimo un giro Ciao Fabio Noi ci vediamo dopo Allora No Matte Ma dove vai? Non puoi andare Dai che c'è la restrizione Dove vai? Fabio aspetta Non puoi andare Aspetta Sto rischiando un problema tecnico Un problema tecnico Sto rischiando Un problema tecnico Allora intanto Mettete risolto il problema tecnico Mettete risolto il problema tecnico Salutiamo qualcuno Vai vai Saluta Saluta Fatto risolto Si inizia giù No Ci sei? Matteo Ci sei? Si Eh Stati Non dire Siamo rimasti in diretta No Hai ripreso la diretta? Boh Aspetta Ci siamo Ci siamo Siamo tornati Fabio Ci siamo Siamo tornati Fabio Vabbè Vabbè Niente di che Non mi ha tenuto Vabbè Lei è lo stesso Lei è lo stesso Lei è lo stesso Quindi stavamo salutando Stavamo salutando i nostri ascoltatori Salvatore Massiello Sti tenieri che ci saluta Yolanda Calolino Roberta Minzera Ormai è la nostra Ogni tanto Picco Mica Picco Si incanta Succede di tutto E di più Ci siamo Matteo Siamo belli Siamo in diretta Allora In realtà Non esisteva Nessun problema Però Me lo sono un po' inventato Hai staccato un po' il cavo Me lo sono un po' inventato Me lo sono un po' inventato Allora Ma giusto così Giusto così Quando i problemi tecnici Non ci stanno Ora vi vedo Comunque grandissimo Alberto Scusa Lupo è veramente un bravissimo attore Alberto Lupo Stavo dicendo Alberto Lupo Io andrei Fichi ci siamo Con Biccione Pizzeria 2 Pizzeria il porchetto Palle di Mozart Palle di Mozart Con mutande La tiro di subito Perché davvero Questa Mi è veramente Cagare Allora Fabio Io andrei Andrei con la nuova pubblica Accade oggi No? Vai con la rubrica Accade oggi Accade oggi Perché è importante Allora Accade oggi L'11 aprile del 2000 E nei giorni seguenti Aspetta Fabio C'è una telefonata In diretta rispondo Vai Pronto? Ciao ragazzi Ciao Complimenti per la trasmissione Ciao grazie Di chi sei? Grazie Sono Gigi Da Montecatini Terme Ciao Gigi Volevi dire qualcosa? Sì Volevo dire qualcosa Sì Con il cavolo Che racconto una barzelletta Bravo Gigi Bravo Gigi Grazie 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 No 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 Non ce le caga mai nessuno Oh Finalmente Finalmente Bene Bene Quindi Questo qui era un ascoltatore Che ha aderito alla rubrica Non racconto la barzelletta Esatto Esatto Allora nel frattempo Dicevamo Fabio E l'11 aprile del 2000 E nei giorni successivi Ci si avvicinava a metà mese Mentre L'11 aprile del 2020 Va in onda La 22esima puntata Di Non è una trasmissione originale Eh bene Quindi accadde questo Accadde questo Io se vuoi Posso andare Accadde questo Io Fabio Oh C'è la chiamata E' una battuta C'è il telefono Che suona Io faccio ascoltare tutto Noi non abbiamo filtri Matteo Tu puoi fare tutto quello che vuoi Pronto 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 mi senti Pronto sono Cosimo Maccarò Da Rocca Montepiano Salve Cavolo che racconta una barzelletta Bravo Cosimo Bravo Cosimo Bruttissimo Bruttissima trasmissione Grazie per la bruttissima trasmissione Ciao Eh grazie 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 No Che complimenti Ha detto bruttissima trasmissione Perché hai inventato questa Questa rubrica Col cavolo Che racconta una barzelletta Perché io col cavolo No ma Alla fine No alla fine Le barzellette Non sono mica così brutte Fan cagare Fan cagare Le barzellette No Ma dipende da chi le racconta No Vabbè Allora se Gino Bramieri Mi andava in televisione A raccontare la barzelletta Era Gino Bramieri Io accendevo la tv Sul canale Poi tra l'altro Gino Bramieri Non andava sul canale 898 La piattaforma sky Come invece andiamo noi Lui no Lui sì Allora Chi dice adesso Però pensare Quella persona che ti dice Adesso racconta una barzelletta Allora Innanzitutto Ti sta già Illudendo Come se ti facessi passare I momenti più belli Della tua vita E quindi È vero È vero Questo è vero Tu ti predisponi a ridere Esatto Se io faccio lo spettacolo Lo spettatore Sceglie se venire Alla teatro In quel caso lì Ti obbliga a rimanere Perché tu cosa Hai mai sentito uno dire Oh ma cosa vuoi da me Allora Lui mi racconta La barzelletta Io Vittima Ho Versi du Incomincio a domandarmi Se è bravo Se la sa raccontare Ma soprattutto Se già la conosci Se la conosci Che cosa fa Alberghane Se la Se la conosco E cosa faccio È un dramma Penso Glielo dico O fingo di ridere No Di solito Si finge di ridere Si finge Ma se non la conosco Incomincio a domandarmi E se non la capisco Ah si si è vero Perché poi Se il barzellettiere Fa cagare La barzelletta Non la capisce No no Ma perché è una Oh ragazzi E questo è bisogno Non è che non la Odio le barzellette Fabio No 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 Guarda Io Non le odiavo così tanto Ma mai convinto Oh là Fabio Allora Proverbio del giorno Proverbio del giorno Vai Vai Non buttare l'acqua Dal balcone Soprattutto se abiti A Pianto Arreno Fidatevi Non conviene Non conviene Fabio Però è arrivato Un messaggio serio Messaggio Messaggio Vai In merito Alle invenzioni inutili Ci sei? Si 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 Vai 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 Allora In merito Alle invenzioni inutili E' un messaggio Un'applicazione L'ho scaricata L'ho già provato Un'applicazione Che per risparmiare giga Mentre parli Tira via Un po' di Un po' di letterine E un qualche vocale Inutile Soprattutto Sai che se uno Ha una cantilena C'è una cantilena Che attacca E ne tenete via un paio L'ho provata E se vuoi ti faccio ascoltare Il messaggio Vado? Prova Vediamo che succede Sono molto curioso Il messaggio E' utilizzare Per dimostrare Che il rione funziona Tutti E' buona Anche a Teo Risparmi tanti giga Ma non si capisce un cazzo Hai capito? A me mi sembrava abbastanza Il messaggio E' utilizzare Per dimostrare Che il rione funziona Tutti E buona Anche a Teo Non so che mi insegnava Non so cosa dirti Se non ti piace Allora Andiamo Andiamo Come invenzione inutile Perché è praticamente Inutile Io andrei con L'oroscopo Che se l'abbia lasciato a metà Perché era tardi Potresti Magari dire qualche restrizione Se c'è voglia Uh davvero Ce le ho Ah Sì Tu tanto parla Che non ci vedo Non ci vedo più Allora Allora Durante la giornata Di Pasqua Ah davvero L'avevo scritta là La vuoi dire tu Dai come vuoi Restrizione Restrizione Allora Me l'ero dimenticata Aspetta Messaggio Messaggio Vai Restrizioni Fabio Fabio Restrizioni È il momento Delle restrizioni Allora Durante la giornata Di Pasqua È vietato Portare L'immondizia A piedi Con lo sciaglio Sulle spalle Oltre 37 chilometri Dalla propria Abitazione Ma non solo Ma non solo Perché poi la gente C'è chi fa il furbo Esatto Però C'è un vantaggio Un vantaggio Un allargizione Dopo la restrizione Sarà possibile Portare A passeggio Il cane Anche con solo Il guinzaglio Senza cane Ma Con un documento Un certificato Che confermi La presenza Di stati Di allucinazione Quindi Con la perizia Psichiatrica Assolutamente Assolutamente Come facevano Nel spettacolo Aldo Giovanni Giacomo Esatto Perché c'è la cagna No Che dopo dicono Che non siamo Una trasmissione originale Fabio Ma noi non siamo Una trasmissione originale Va bene così Fai con lo stacchetto Allora Fabio Io andrei con l'oroscopo Ieri sera ho detto Un terzo di oroscopo Stasera dirò un terzo Vi ho visto ieri sera Che tu Sei bravo Non ci sono problemi Nel frattempo Andiamo avanti Finché rimane Soltanto Roberta E tua mamma A seguirci Andiamo avanti Allora L'oroscopo Bilancia Bilancia Meglio quella digitale E E più precisa E più precisa Questa la sai anche tu Leone Ti viene bene Scorpione Assente Perché abbiamo fatto La disinfestazione E Pesci Pesci L'amore E il vaso Non sono La stessa cosa Questo è Soprattutto Se è il vasetto Quello dove Cagli dentro Perché Fabio Sei fatto tardi L'errore c'è stato Io avrei Il menù di Pasqua Ma lo manderei Dopo Pasqua Va bene Matte Se ne faranno una ragione C'è Il tempo Purtroppo È tiranno Il tempo È tiranno Matte Noi domani Non andiamo in onda Quindi No Di Pasqua A tutti Perché noi ci vediamo Direttamente a Pasquetta Facciamo una scampagnata Un barbecue Buona Pasqua Allora Allora È arrivato un messaggio A fare due Gira la ruota Dai Gira la ruota Basta Con questa Allora 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 Un messaggio Buonasera Sono Fernando Da Napoli E chiamo Da Milano Comodo Perché C'è il filo lungo No Lui vive a Milano È nato a Milano Ah Scusa Pensavo che chiamasse Dal telefono Che ci aveva Attaccato No Da Napoli Il cognome È tutto attaccato Sono Fernando Da Napoli Tutto attaccato Tutto attaccato E chiamo da Milano E cantate Una bella canzone Di Totocotugno Chiede Allora Io non so se è il caso La più bella Di Totocotugno Ha fatto Azzurro Il coccodrillo Come fa E l'italiano Totocotugno È arrivato secondo Sempre Comunque Io Fabio Avrei un altro Un appunto Un appunto Fabio C'è uno spettatore Che mi fa una domanda Appuntati Vai Ma il passato Di masticare Masticazzi Non è il passato Va bene Dai Infatti scherzi Perché bisogna essere seri Buona Pasqua A Fabio Auguri a tutti E cantiamo Una canzone Molto patriottica Matteo L'italiano Allora Facciamo le camerie Di Tutte le persone Che in questo momento Sono in camera Assieme a noi Cantino la canzone L'italiano Esatto E viva l'Italia Non c'è ancora Nelle restrizioni Quindi si può fare Si può restrizire Si può restrizire Da lunedì Nelle restrizioni Avremo Ciao a tutti Io d'accordo Lasciatemi cantare Con la chitarra In mano Io sono un italiano Un italiano vero Un'Italia che non si spaventa Con la crema Con la crema di barba La menta Con un vestito Gessato sul blu E la moviola La domenica In tv Buongiorno Italia Agli spaghetti al dente A un banalino Come presidente Con la bandiera In titoria Una cinquecento Giù di carrozzeria Buongiorno Italia Un italiano vero Siatemi cantare Perché ne sono fiero Io sono un italiano Un italiano nero Buongiorno Grazie a tutti